Befano in persona ci ha chiesto di consegnare una bella calza piena di carbone, pasta precotta, cipolla e aglio all'assessore Tanti e un po' in generale alla giunta comunale perché proprio alla vigilia delle festività natalizie con un loro atto esecutivo hanno dimostrato una volta di più di avere a cuore l'interesse economico anche a discapito della salute e del benessere dei bambini. Una calza piena di carbone, cipolla e aglio ma soprattutto pasta asciutta precotta portata dalla Befana per mano del comitato giù le mani dalle menze all'assessore del comune di Arezzo Lucia Tanti e alla giunta è stata questa l'ultima iniziativa del comitato formato da genitori di bambini che frequentano le scuole comunali e aretine in difesa delle cucine interne agli istituti contro il centro unico di cottura. Allora questa qui che vedete è la voglia di dialogo della giunta comunale della città di Arezzo perché è l'individuazione della particella come da delibera di giunta comunale del 20 dicembre in cui verrà edificata la futura supermenza se questa qui alla fine avrà gli ultimi via libera cosa che noi ovviamente non ci auguriamo. Però appunto se uno vuol dialogare per carità può fare tanti passaggi formali prima ma addirittura arrivare a individuare un posto, un luogo dove si farà un progetto mi sembra che il dialogo si stringe anche troppo. Noi chiediamo che questa città possa iniziare ad occuparsi seriamente di educazione alimentare e che possa dare spazio anche a quello che è il tessuto produttivo locale. Vorremmo che nelle nostre emenze che i nostri bambini potessero mangiare prodotti biologici certificati a chilometro zero e vorremmo che le cucine fossero un luogo a loro disposizione per apprendere quello che è il rapporto corretto con il cibo. Prosegue intanto anche la raccolta firme portata avanti dal Comitato una petizione che intende coinvolgere più persone possibili e sensibilizzare così sul tema al centro del dibattito. Abbiamo anche dei punti fisici dove poter firmare oltre che contattare tutti quei genitori che sono coinvolti in tutte le scuole del Comune d'Arezzo.